Eeeh, salve a tutti WatchKibari e benvenuti nel sedicesimo episodio di Mario Party 9 Ok, oggi andiamo a fare punto di vista Gioca ai minigiochi con una diversa prospettiva in questa vincente modalità Ci sono dieci minigiochi ma dovrai sbloccarli uno a uno, è solo per un giocatore Oggi raga andiamo con Kamek, il personaggio che ha da di più del gioco ma vabbè col che è Ti do il benvenuto a punto di vista Vedrai, sarà divertente giocare ai tuoi minigiochi preferiti in questa nuova emozionante dimensione Ok, mentre raga sono già sbloccati perché l'abbiamo già fatti Raga iniziamo con il tempio delle palle chiodate, sarà molto difficile Ecco, come avete ben notato nella miniatura c'è Toadette Perché sì, lei, Toadette, non compare mai Cioè proprio nessuna nomina, raga, Toadette qua non esiste in Mario Party 9 Peccato eh Ragazzi, a me sarà molto difficile Oh mio Dio, raga, quanto è strano sta roba Raga, guardate quanto è strano Ciao a tutti ragazzi, sono Kamek Eh, lo sarà attento alle palle chiodate Oh no, è difficile Raga, mi sa che manco solo io eh No, manca Luigi Aiuto Ok, finito Wow Cioè praticamente A volte potrebbe anche essere zoomato A volte potrebbe tipo Forse la visuale a volte potrebbe anche essere tipo a destra Sì, non ne ho idea Prossimo Ceppo Bombau Mamma mia, avete l'ascia di Kamek quanto è bello Ok, si parte Primo legno Fantastico Siamo contro degli avversari alla caso Wow Che roba Bam Colpito Ok, attenzione Colpito anche questo Finito Wow Che scarse Sì, però veramente Io volevo Toadette in questo gioco Dai E poi tipo adesso Negli ultimi giochi di Super Mario Toadette comparsa parecchie volte Nei titoli nuovi Tipo è diventata famosa Tipo, cioè diciamo Vabbè adesso siamo contro Tipo timido Luigi e Struzzi Wow Fantastico Benissimo Benissimo di nuovo Così mi piace molto di più, sapete Vai così gente Ok Ok Ok, di nuovo Molto bene Salta No, non ce l'ho fatta Adesso di prendere tutti quanti gli anelli Raga Dai che ce la facciamo Attenzione a Struzzi Ha un buon numero lei Adesso raga Concludiamo per bene Ok Dai che adesso finiamo Dai che adesso finiamo Ultimo salto Preso No Attenzione manca l'ultimo No Nannazione Per la terza volta Aremo 29 punti È una roba pazzesca C'è Capito Lotta sbilanciata Questa è la prima volta Che facciamo questo minigioco Resta sulla piattaforma Mentre cerchi di far cadere Chiunque altro Vince Chi resiste Sulla piattaforma Vince Chi resiste Sulla piattaforma Più a lungo Praticamente Bisogna darsi i pugni Capito Ok Sono pronto Ma mi stai prendendo in giro Cosa Ma non ho capito molto bene Cioè Cadi giù te No Peach Maledetta Peach Ti odio Muori Toad Via Sì Bruciate nell'inferno Yes Lo spirito di Toadette È con Kamek Vabbè Ok Ecco il prossimo Smackanelli Non possiamo ben sapere Dove arrivano i cerchi Vabbè Almeno ci sono le ombre Ecco i pesci di Smack Fantastico Bellissimo Proprio No Yoshi Ha preso Uno Bello Aspetta Voglio prendere io Quello dorato Ok Perfetto Bam Fantastico Siamo 8 No Toad Schifoso Di un Toad Ammirate ragazzi La faccia di Kamek No Almeno questo Lo voglio prendere io Perfetto Ok Luigi però Potrebbe darmi fastidio Diciamo Molto bene Scusate Scusate Quello lì Non lo prende nessuno Ok Yoshi ha preso Quello dorato Va bene Dai manca poco Eh no Dai quello dorato Volevo io No È mio questo Mi spiace No cacchio Sto per vincere Luigi No Ha vinto Luigi Di un punto Non ci credo Ho perso Vabbè dai Passiamo al prossimo Punto di vista Cardino Carnivoro Allora L'ultima volta Quando c'era Che cavolo Attenzione qua Ok aspetta Tipo timina ragazzi Ha zero punti Per fortuna Oh mio dio Le piante piragne Aiuto Aiuto Demet Aiuto No Struzzi Struzzi cattiva Aiuto Dai che forse Ce la facciamo Dai che forse Ce la facciamo Sì Vittoria Tipo timina Ha fatto schifo Molto bene Ok adesso Salta nuvole Va bene Ok Peccato che Non si può fare In quattro giocatori Secondo me Sarebbe molto meglio Ok Questo mi sa Che è più complicato Forse no Non mi idea Non può Ce la facciamo Vai Kamek Bene Ora Di qua Boh raga Sinceramente Non so perché Sono morto Ma dai Ancora Sono morto Salteremo Sulle nuvole Adesso Aiuto Non devo mai cadere Non devo cadere Raga Non devo cadere Ok finito Ok finito Aiuto No Mi stai prendendo In giro Cosa Ok raga Ok raga Adesso E' un po' Se ce la faccio A vincere Sì Finito Mamma mia Bello però Il paesaggio Dietro Wow Saltanuvole Ah forse Forse eri pazzi Adesso c'è Forse eri pazzi Adesso c'è E' carina Questa modalità Comunque Ve lo dico Molto Molto Bella E' un po' Adesso Qual è la Eh Aspetta Qual è quella Che ha più Questo credo Ti prendo Tanta talpa Ti prendo Non osare scappare Mio Vai così E vai Le gemme Di tonette Perché continua A nominare Toadette Non lo so Non me lo chiedete Non lo so Boh Tata Tata Un po' Addio Ho perso il conto Qual era quello giusto Aiuto Questo forse Ah boh Lo so No Che sfiga Madonna Sono più avanti Loro Eh Attenzione Round finale Questo Questo qua No raga L'ho perso di vista L'ho perso di vista Raga Aiuto Qual era Non lo so Rega No Mario Schifoso Che non sei altro Dammit Vabbè dai Passiamo al prossimo Su Oddio Schive Pallottoli Bill Sei serio Cioè no Raga Questo qua Secondo me È una roba È un trip Mentale Insomma Con sta cosa Ti fa impazzire Cioè guarda Rega Cos'è Ma tu come fai a sapere Dove cacchio arrivano No raga Cos'è Non sai dove Arrivano No raga Che cacchio è Ma che cavolo No raga Adesso io riprovo Non mi interessa Eh ma dove cacchio Arrivano Questi Non si capisce Dove arrivano Vabbè ho vinto Wow Bisogna avere fortuna Qui eh Perché potrebbe arrivare Davanti Da dietro Destra Sinistra Che roba pazzesca Ora raga Facciamo L'ultimo Minigioco Di punto di vista Che è All'inseguimento Sfugge I tuoi avversari Sino allo scadere Del tempo Mi sembra Che è la prima volta Che lo facciamo Ma non credo Ok Siamo contro Mario Tipo timido E Todd Wow Fantastico Veramente Che bello Eh Da dove cavolo Arrivano questi Aiuto Non mi potete Beccare Sono troppo bravo C'è qualcuno Da questa parte Cacchio C'è tipo timido Aiuto Ma sono tutti lì Ragazzi Stanno tutti scontrando Perché che sono Raga guarda Sono proprio nabbi No Todd Todd Non ci provare Cazzo Maledetto Tipo timido Odioso Che non sei altro Dammit Allora raga Facciamo una Riproviamo Però è Complicato Questo eh Madonna Punto di vista È bello Ma è Wow No Todd Non posso neanche saltare Aiuto Aiuto Eh vabbè dai Va bene così Su Abbiamo vinto Un po' di volte Diciamo Allora gente Questo è tutto Per questo video Di Mario Party 9 Abbiamo visto Punti di vista Spero vi sia piaciuto E ci vediamo Alla prossima Ciao 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 Que stai Che caricheé Che caricheé Che caricheé